Dimenticare la sconfitta ingiusta rimediata con la Vibonese, con la vittoria De Calabri segnato con una mano e ripartire. E l'obiettivo è in casa Gela. Domani al Presti ritorna un derby molto atteso dalla tivoseria Bianca Azzurra. La squadra di Nicola Terrenova se la vedrà con il Messina. I peloritani, che in classifica accusano un solo punto di distacco reggialesi, stanno attraversando un ottimo periodo di forma e i risultati ottenuti ultimamente ne sono la logica conseguenza. E' un derby che promette spettacolo. I punti in palio sono pesanti in chiave playoff. Ancora la sconfitta brucia, però dobbiamo rimboccarci le mani e pensare al futuro. Il futuro di Cemessina è una squadra che chiaramente sta in buone condizioni fisiche, viene da tanti risultati positivi, con un impianto di gioco importante, quindi per noi sarà veramente una battaglia domenica. Però oltre al danno alla beffa, oltre alla sconfitta meritata di Vipo è arrivata anche la pesante mano del giudice sportivo che vi ha squalificato Campanaro per tre giornate. Sì, ancora una volta non potrò soffrire dell'intera rosa, anche perché ci sono degli acciaccati, quindi dovremo valutare le condizioni di qualche ragazzo. Facendo un basso indietro eravate convinti del pareggio a Vipo, mancava poco alla fine della partita? Più che convinta abbiamo sciorinato un'ottima prestazione, non abbiamo concesso tante situazioni pericolose all'avversario, è chiaro che poi alla fine è una beffa anche perché l'occasione migliore l'ha avuto il Gela. Tornando invece alla gara di domenica col Messina, cosa domenica della formazione peroritana, che come lei sottolineava oramai sta giocando bene e ottiene risultati su risultati. Ho detto in precedenza, un ottimo impianto di gioco, un'ottima quadratura, è da ottobre che lavorano in una determinata maniera e stanno cominciando a raccogliere i frutti. Noi non possiamo pensare a Messina, dobbiamo pensare a noi stessi e dobbiamo cercare di fare nostra partita. Per domani è stata indetta dalla dirigenza Biancazzurra l'iniziativa Anch'io allo stadio per il mio Gela, un percorso di collaborazione con le scuole elementari e medie della città che già questa domenica potrà vedere sugli spalti dello stadio comunale gli alunni pronti a tifare per la propria squadra del cuore. Gli studenti avranno la possibilità di accedere allo stadio e assistere al match nel settore tribuna al prezzo simbolico di un euro, con la possibilità di far entrare gratuitamente la mamma che accompagna il proprio figlio o figlia acquistando il tagliando direttamente al botteghino dello stadio Presti. Cosa si aspetta dal pubblico di casa perché poi è realmente il dodicesimo uomo in campo? Mi aspetto quello che è normale per loro, cioè un'affluenza importante, un tifo importante perché il tifo del Gela è quello che ti dà qualcosa in più. Le partite in programma domani sono Acireale Troina, Cittanovese Roccella, Gela Messina, Gervison Palazzolo, Isola Caporizzuto Palmese, Nocerina Ercolanese, Paceco Igevirtus, Portici Vibonese, San Cataldese e Bolitana. La classifica quando siamo giunti alla ventunesima giornata è la seguente. Troina 44 punti, Vibonese 40, Igevirtus 38, Ercolanese e Nocerina 36, Acireale 32, San Cataldese 29, Gela 28 punti, Messina, Gervison, Cittanovese 27, Portici 24, Palazzolo e Roccella 22, Palmese ed Ebolitana 18, Isola Caporizzuto 8, chiude il Paceco con 7 punti. Intanto nelle ultime ore il Gela ha acquistato 4 nuovi giocatori, si tratta di due attaccanti e di due difensori, tutti di 19 anni. Arrivano in casacca biancazzurra l'attaccante Giuseppe Chirullo della Juve Stabbia e Fabio Brasile dal Palermo. I difensori che vestiranno i colori biancazzurri sono Riccardo Manzueto, sempre dal Palermo, e Vincenzo Polito, difensore proveniente dalla Juve Stabbia.